Un importante traguardo per l'hotel Principi di Piemonte di Viareggio, primo in Italia ad aver ottenuto l'autorevole certificazione per la salubrità dei suoi ambienti rilasciata da Chioa Italia. La cerimonia di consegna è venuta oggi 4 agosto nella splendida sala Butterfly dell'hotel che investe per proteggere e tutelare i suoi ospiti garantendo loro la sicurezza necessaria per rendere il soggiorno il più piacevole possibile. Trasparenza, affidabilità e credibilità. All'interno di un contesto come quello che viviamo oggi dove tutto importante sia igienizzato in realtà qui si tende alla salubrità a 360 gradi dove il Principi di Piemonte attesta effettivamente la sua esecuzione nel fare e la sua trasparenza nel dichiarare al pubblico quello che sono i risultati di tutti gli standard della salubrità ambientale riguardo alla prevenzione delle contaminazioni biologiche, fisiche e chimiche. L'iconico hotel della Versilia ha dimostrato il proprio impegno a creare una cultura della responsabilità e seguire le migliori pratiche per aumentare la sicurezza sanitaria. Con questo spirito e con questo obiettivo il Principe di Piemonte di Viareggio si è avvicinato alla certificazione sviluppando un modello gestionale ad hoc innovativo e di alto livello. Siamo orgogliosi di questa certificazione, commenta il General Manager Stefano Ploteger, perché desideriamo che i nostri ospiti e i nostri collaboratori si sentano al sicuro ed è per questo che abbiamo sempre investito sulla loro tutela.